L'Università di Teramo da settembre riapre agli studenti, ovviamente con diverse modifiche all'attività didattica, a volte la sicurezza. A stabilirlo è stato il Senato accademico. La modalità di erogazione della didattica ordinaria sarà in presenza, rispettando le norme per il distanziamento, con controlli all'entrata e la necessità di indossare la mascherina, situazione che però porterà ad una riduzione della capienza di studenti nelle aule. Cambieranno anche i tempi, una lezione durerà 40 minuti e non più un'ora. In funzione della numerosità delle varie classi abbiamo attribuito le aule alle diverse classi e una classe in un giorno deve stare in un'aula, quindi saranno i docenti a muoversi e alla fine della giornata ci sarà la sanificazione. Per chi non potrà seguire, quindi per tutti i casi previsti dalla legge, saranno previsti metodi di didattica online, alternativi, sostitutivi e nel caso di classi molto numerose che prevedono ad esempio la frequenza obbligatoria, come nel caso di veterinaria, ci sarà la didattica mista simultanea, cioè una parte della classe seguirà in presenza e poi l'altra parte seguirà online e il giorno dopo le due metà si invertiranno. Ovviamente riprenderanno anche gli esami, riprenderanno anche le tesi. Per chi è laureato in marzo e si laureerà in luglio a distanza, quindi online, faremo la consegna delle pergamene circa metà settembre, quindi in presenza del rettore e forse ci farà una piccola sorpresa anche il ministro, proprio per onorare questi ragazzi che hanno avuto la laurea online. Ovviamente questo secondo le disposizioni attuali, sono sicuro che tutto andrà bene, se ci dovesse essere la famosa recrudescenza di cui si parla, siamo pronti immediatamente a tornare online e anche in questo caso a non far perdere nemmeno un'ora e nemmeno un credito ai nostri studenti.